Pace bene e bentornati. Oggi 27 giugno ricordiamo Cirillo di Alessandria. Ascoltiamo. Cirillo nasce probabilmente ad Alessandria d'Egitto tra il 370 e il 380. Dopo gli studi nel 403 è a Costantinopoli per partecipare al sinodo detto della Quercia che ha come esito la deposizione del vescovo della città Giovanni e segna così il trionfo della sede Alessandrina su quella tradizionalmente rivale di Costantinopoli dove risiede l'imperatore. Dopo la sua nomina a vescovo Cirillo ricompone la rottura della comunione con Costantinopoli ma i contrasti si riaccendono quando nel 428 vi viene letto Nestorio che preferisce per Maria il titolo di madre di Cristo, Christotokos, il luogo di quella già molto cara alla devozione popolare di madre di Dio, Theotokos. In una lettera a Nestorio Cirillo nell'ottica di far prevalere le tesi care al popolo descrive con chiarezza la sua fede cristologica. Affermiamo così che sono diverse le nature che si sono unite in vera unità ma da ambedue è risultato un solo Cristo e Figlio perché divinità e umanità riunite in unione indicibile e inenarrabile hanno prodotto per noi il solo Signore Cristo e Figlio. Perciò, sottolinea il vescovo di Alessandria, professeremo un solo Cristo e Signore. Cirillo ottiene che Nestorio venga ripetutamente condannato ma riesce a giungere già nel 433 a una formula teologica di riconciliazione. Muore il 27 giugno del 444. Vi propongo per quanto riguarda le opere di Cirillo una piccola lettura di quella che è la lettera a Valeriano perché l'ho trovata molto profonda ma anche divertente per alcuni tratti e scrive è possibile come ritengo sia per la forza che ha la verità di natura sua sia per la prudenza della tua santità che si possa opporre molto fortemente con argomentazioni una dottrina sicura alle sconsideratezze di alcuni. Quindi dice Cirillo a questo Valeriano sono sicuro che sia per le tue capacità ma anche perché la verità a volte si difende anche da se stessa che tu puoi sicuramente rispondere a queste persone che dicono cose sconsiderate. Essi, queste persone, vanno ciarlando come sciocche vecchiette mettendo ogni cosa sottosopra e pretendendo di investigare sottilmente sul mistero dell'incarnato unigenito e signore. Ovviamente qui si parla della natura di Cristo ma quante cose serie veramente al mondo di oggi sono messe in discussione da persone che diciamo la verità non hanno chissà che studio, chissà che preparazione o anche chissà che intelligenza hanno solo un'opportunità di parlare e di poterlo fare a un grande pubblico magari convincendolo ma lo stile come dice il nostro Cirillo è quello delle sciocche vecchiette che mettono sottosopra le cose e continua ma non lo intendono, non capiscono che stanno sbagliando e facilmente deviano in ciò che non è conveniente e inoltre coltivano pensieri distorti. Quel che in costoro è molto rozzo è il fingere di voler pensare in maniera retta e adattando a se stessi come una maschera un'opinione che sembra inclinare alla verità iniettano nelle anime dei semplici il veleno dell'iempità di Nestorio e Nestorio era colui che in pratica in quel momento negava che Cristo avesse questa doppia natura insieme sia umana che divina e queste persone sono simili a coloro che curano i corpi degli uomini cioè i medici ma in che cosa? Perché mescolano ai farmaci amari il dolce miele celando con la qualità della dolcezza la naturale repellenza della medicina ossia sta dicendo che le cose false da queste persone sono mescolate con qualcosa di dolce in modo che le persone le accettino e io la trovo vera questa cosa anche al mondo d'oggi quante cose false vengono poi prese per vere solo perché magari sono di facile accesso sono immediate da capire allora uno le accoglie e questa dinamica non è lontana dal nostro mondo e noi chiediamo a Cirillo la sua intercessione appunto perché possa donarci la sua capacità di difendere la verità ma anche di cercarla che un po' ci costa fatica e in questo ci siamo impiegriti. San Cirillo prega per noi.